qui attenzione perché bisogna attraversare la strada principale purtroppo grazie sarebbe stato meglio evitare ma punto critico proseguiamo per un mago un mago del mago dressaggio che bypassiamo così un altro fregato fragole guarda un po' nuova senza bestia macchina un po' nuova un po' nuova un po' nuova sei stag Grazie a tutti. Qua inspiegabilmente ti farebbero andare giù a sinistra, a noi tac, facciamo i disonesti. Noi, perché noi? Io, sono da solo. Bici. Qui attraversiamo perché poi, altrimenti, arrivati al distributore, la ciclabile finisce. Per cui, svoltare a destra, come sto facendo, e proseguire. A te io del distributore finiva. Non è segnalato, per cui, prendere nota. Alla... Teleistra è a linea diretta col ciclo furito. Rieste 42 km, coper 33. Alla... 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 Eurowski Grad Sport la città europea dello sport 2018 prende le note segna unesimo tralassamento abbastanza noioso e qua siamo quasi arrivati a Umago noi sforzeremo a destra in direzione Copper Trieste qua si può restare un po' sul marciapiede e poi si va in strada a dopo e poi si può restare un po' sul marciapiede e poi si può restare un po' sul marciapiede a un po' sul marciapiede